Il mondo del volontariato bellunese si è ritrovato in assemblea sabato pomeriggio nella sala riunioni dell'ospedale San Martino per discutere delle prospettive offerte dalla riforma del terzo settore varata dall'organismo nazionale di controllo che tra l'altro impone la riduzione dei centri servizi al volontariato dai 65 attuali ai 49 obbligando alla fusione le realtà di Belluno e Treviso e per eleggere gli organi sociali dello storico sodalizio. All'assemblea si sono presentati 72 delegati delle 138 organizzazioni aderenti al comitato. I presidenti delle associazioni di volontariato bellunesi si adopereranno per mantenere l'autonomia gestionale ed economica del CSV di Belluno che considerano un prezioso ed indispensabile servizio di supporto alle loro attività. L'assemblea ha anche votato per scegliere i sette membri del nuovo direttivo sono stati eletti Gianluca Corsetti, Romeo Bristot, Liliana Tomaselli, Franco Piacentini, Mauro Decette, Elisa Corrà e Pierangelo Dagioz. Del direttivo non fanno parte Giorgio Zampieri e Dario Emeri che avevano preannunciato la loro decisione a non candidarsi dopo molti anni di intenso e apprezzato lavoro e questo per lasciare spazio al rinnovamento. Nella prima seduta il nuovo direttivo, convocato per mercoledì 31 ottobre, dovrà quindi eleggere il presidente, il vicepresidente e il segretario e nominare i componenti del nuovo consiglio del CSV bellunese.